Unicop Sicilia è presente in tutta la regione siciliana con oltre 900 cooperative che rappresentano le tipologie più svariate del mondo cooperativo. Noi siamo oltremodo presenti con 31 unioni zonali e 9 unioni provinciali, raggruppando anche 12 consorsi che servono a dare e incrementare lo sviluppo non solo della cooperazione ma del sistema produttivo regionale. L'obiettivo di oggi è quello di manifestare ancora una volta la nostra vicinanza alle imprese, alle imprese cooperative in particolare. Il momento è ancora difficile, lo viviamo tutti i giorni, lo vivono i giovani che vanno via purtroppo da questa terra e quindi la nostra idea nel nostro piccolo è quello di esserli al loro fianco. Uno degli strumenti di cui parleremo oggi è il contratto di rete perché spesso la difficoltà del nostro imprenditore è quella di essere troppo piccolo e quindi assolutamente infinitesimale nel contesto di mercato complessivo. Con il contratto di rete si può crescere, le dimensioni diventano importanti pur senza affrontare i costi e gli oneri di una sovrastruttura e quindi di un'altra società. Soficop è un investitore istituzionale nato sulla base di una legge del 1985. dal 1986 interviene a sostegno alle cooperative, attualmente ha 109 cooperative attive e ha fatto investimenti in questi anni per 60 milioni di euro. Sicuramente Soficop è in grado di supportare in questo momento, grazie a una normativa ad hoc destinata al mezzogiorno, le iniziative sia nuove di start-up, anche come moltiplicatore per le imprese nuove, sia di consolidamento dei debiti delle imprese cooperative che hanno bisogno di assistenza. Con particolare riferimento quelle di produzione al lavoro e quelle sociali. Noi abbiamo un accordo con Unicop che è stato firmato già da un po' di tempo che prevede delle agevolazioni nel senso di trasparenza massima a livello di condizioni e supporto in materia di erogazione e di finanziamento e di accesso al credito. Gli strumenti che mette a disposizione anche con il supporto di Unicop la banca sono legati soprattutto al mondo anche delle garanzie, perché è chiaro che un'azienda, una start-up nella fase di avvio ha bisogno soprattutto di non solo supporto di consulenza, cosa che facciamo, ma anche aiuto nelle garanzie per avviarsi. Noi come Credito Siciliano ci siamo perché abbiamo avviato anche qui un percorso di innovazione, aprendo anche qui la strada a un campus innovativo che appunto è all'interno del nostro edificio e che ci consente e ci aiuta a pensare al futuro in maniera diversa. Da Presidente della Quinta Commissione stiamo già lavorando le nuove politiche attive del lavoro in partenariato con tutte le associazioni datoriali. Io credo che sia fondamentale ripartire da qui. Le associazioni datoriali raccontano quello che è il bisogno e l'esigenza del territorio e la politica deve riaccendere i riflettori su quella che è l'esigenza, ripartendo dal basso e costruendo politiche che riescano davvero a dare occupazione alla nostra terra.